Negli ultimi dieci giorni, set trapianti di rene sono stati effettuati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e altri trapianti eseguiti in altri ospedali italiani di cuore, fegato, pancreas e polmone. Grazie alla sensibilità dei familiari di pazienti deceduti in vari ospedali abruzzesi, è stato possibile assicurare la guarigione di patologie diverse. Gli organi, in virtù di un atto di generosità dei parenti dei donatori, sono stati prelevati da persone decedute nel reparto di rianimazione degli ospedali di Pescara, Teramo e Sulmona. A novero di queste donazioni se ne è aggiunta una da un soggetto vivente da parte di un donatore residente in un comune dell'Abruzzo. Gesti di grande attuismo che hanno permesso all'ospedale dell'Aquila, dove c'è lo specifico centro regionale, di effettuare sei trapianti di rene in poco più di una settimana, attraverso la chirurgia dei trapianti diretta dal professor Francesco Pisani. Intendo ringraziare i familiari, ha detto Pisani, che in un momento di lutto hanno pensato ad altre persone che soffrono, i professionisti degli ospedali abruzzesi, sede di donazione all'ospedale dell'Aquila, dove i trapianti di rene sono stati eseguiti. Perché questi interventi abbiano successo, occorre la collaborazione e la sinergia di tante unità operative e ospedaliere. All'ospedale dell'Aquila, ogni volta che c'è la possibilità di eseguire un trapianto di rene, scatta la collaborazione tra molti reparti e servizi, che all'unisono funzionano in modo rapido e devono funzionare, soprattutto senza smaiature. È necessario agire il più velocemente possibile per compiere infatti gli interventi e garantire la qualità degli organi che vengono trapiantati.